Ciao, sono Coco. Oggi sono venuta a Tokyo per vedere Davide, che ha servizio molto interessante. Piacere a tutti, sono Davide, di Go-Go-Nihon. Go-Go-Nihon? Go-Go-Nihon, sì. Go-Go-Nihon, sì. Go-Go-Nihon, sì. No! Go-Go-Nihon! Go-Go-Nihon, sì, sì. Go-Go-Nihon! I miei iscritti a tutti interessano il Giappone, cultura, manga, cibo, sushi, ma alcuni vogliono venire a vivere in Giappone. Però sembra molto difficile, perché non solo cultura, non solo viaggio, come può trovare scuola buona. Anche alloggio, il contratto di casa è molto diverso. Shiki-kin, reiki, io non posso spiegare bene in italiano. Per quello è molto difficile, forse per te. Ma? Prego! Possiamo aiutare noi. I miei iscritti, ogni tanto mi mando un messaggio e puoi chiedere, piccola cosa io posso aiutare? Mi abito a Genova, a Italia, per quello è un po' difficile. Ormai sei italiano, non sei più giapponese. Go-Go-Nihon si occupa e semplicemente noi riceviamo un'email da un ragazzo, una ragazza che è interessato a venire a vivere in Giappone, magari studiando la lingua, e inizialmente ci chiedono come fare. Quindi si inizia proprio dall'inizio, non hanno idea né della scuola, dove studiare, né di quanto tempo, né di quale città, non hanno idea dell'alloggio, internet, come fare in Giappone e piedicendo. Quindi si può iniziare semplicemente con una richiesta. Basta mandare un'email. Certo, noi rispondiamo in italiano, il nostro è un servizio in sette lingue, ovviamente c'è l'italiano, ma c'è anche l'inglese, spagnolo, altre lingue, e soprattutto è importante dire che è un servizio completamente gratuito, quindi non c'è nessun costo per avere il nostro supporto. Ah sì? Scusate, non pensavo, pensavo di chiedere un po' di qualcosa. No, ovviamente la scuola va pagata, la casa che si sceglie va pagata, ma a Go-Go-Nihon non viene pagata dal nostro. E dopo un anno già puoi parlare come te? Sì, sì sì sì. Io in realtà sono andato a scuola circa un anno e si inizia veramente dalle basi, si inizia dal presentarsi, dal chiedere, che ne so, per esempio, per esempio, devo ordinare da mangiare, veramente proprio i verbi base, le parole base, e poi mese dopo mese si sale di livello fino ad avere un business giapponese, un giapponese che puoi usare anche al lavoro. Il segreto è che voi venendo in Giappone studiate ogni giorno. È come andare, per esempio, alla scuola superiore o all'università, anziché avere matematica, fisica, geografia, eccetera, avete giapponese quattro ore al giorno, tutti i giorni, in più avete compiti da fare a casa, quindi è normale che un anno uno diventa veramente fluente, in più fuori dalla scuola si deve usare giapponese perché siamo in Giappone. Capito. Quindi persone, italiani, veramente vogliono studiare? Allora venite. Esatto. Solo volevano sapere cultura giapponese, era meglio solo viaggiare. Sì, sì. Ci sono anche opzioni, noi le chiamiamo study trip, che sono opzioni di tre settimane, è un concetto un po' diverso, un po' più divertente, un po' più dinamico, ci sono pomeriggi, organizziamo anche attività, però è solo tre settimane, quindi in tre settimane non diventi fluente, in giapponese dice pera pera, pera pera nara nai san shokande, in tre settimane non diventi super fluente, però intanto studi le basi a scuola, vai sempre a lezione tutte le mattine, con uno study trip, pomeriggio fai attività con ragazzi non solo italiani, ma da tutto il mondo, quindi è molto divertente, per chi magari all'inizio un po' non è sicuro di voler stare un anno, può stare un po' di più, oppure se invece non è sicuro, può partire un anno, visto studentesco, quindi avrete un permesso di soggiorno, si dice in italiano, che permette anche di lavorare part time, se uno studia per un anno, quindi si può veramente vivere in giappone a 360 gradi, non soltanto scuola, ma anche amicizie, lavoro e via dicendo. Capito, quindi persone che interessano a vivere in giappone, anche a poco tempo, chiedere, come posso fare anche tutte le settimane, va bene, anche un anno che potete rispondere, potete consigliare in modo giusto per la propria persona. Esatto, quindi ogni persona ha esigenze diverse, a seconda di quello che ci scrivono cerchiamo di consigliare, esattamente. Ok, non solo Davide, anche un'altra ragazza molto simpatica c'è, eh? Sabrina! Ciao! È diventata ita giapponese, guarda, ci ha fatto per lo stravolare! Sabrina si occupa anche del nostro blog, che è un blog in italiano che contiene già tantissime informazioni, quindi magari anche prima di contattarci, leggendo il blog di cui si occupa Sabrina, avete già delle informazioni base su per esempio il visto, tu sei meglio di me, quali sono gli articoli un po' più... Sì, sì, sulla cultura, c'è un articolo sulla geisha, un articolo sul visto studentesco, quindi argomenti più legati alle pratiche per venire in Giappone, altrimenti articoli più sulla cultura, sulla vita in Giappone in generale. Allora guardiamo, io scrivo tutto sotto qua, e quindi prima di scrivere, forse leggi tutto, e poi quando non capisci ancora, allora scrivi! Diciamo, almeno leggi 50%, tutto, tutto, tutto! 50% va bene! 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 Ok! Allora se ti è piaciuto il video, metti il pollice su! E iscriviti al mio canale Koko Japan! E poi anche guardiamo il loro Youtube e il blog! Ciao ciao ragazzi! Ciao! Matane! Matane! Ciao! Ciao! Ciao!